Tragedia nel pomeriggio di ieri a Ozieri, in provincia di Sassari, Giovanni Carta, 60 anni, assicuratore morto cadendo dal secondo piano della sua abitazione mentre riparava una tapparella. La vittima era molto nota in zona, essendo stato un ex calciatore, giocava come attaccante e aveva militato nell'Ozzierese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, 60 anni è precipitato nel giardino all'interno della sua abitazione facendo un volo di qualche metro, battendo violentemente la testa e rimanendo ucciso sul colpo. L'uomo sarebbe inciampato perché indossava delle ciabatte, perdendo così l'equilibrio e precipitando dal balcone. Giovanni Carta lascia la moglie Simonette e due figli Mauro di 27 anni e Valeria di 23. La notizia della scomparsa è stato molto scalpore tra i suoi concittadini che lo ricordano come una persona solare e un grande lavoratore.